L'Aggiunta regionale nella seduta di ieri ha approvato con delibera una programmazione di 2.150.000 euro a valere sulle risorse del POC 2014-2020 per la definizione di un programma unitario di percorsi ed eventi turistici degli enti locali, di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale per il periodo ottobre 2021-settembre 2022. Nell'ambito dello stanziamento complessivo, 2 milioni sono destinati ai comuni non capoluogo di provincia per proposte in forma di partenariato tra non meno di 5 comuni volti alla realizzazione di iniziative congiunte per la valorizzazione delle identità territoriali. 150.000 euro sono destinati ad azioni di promozione e comunicazione delle iniziative che saranno selezionate. L'individuazione delle proposte progettuali che andranno a costituire i percorsi di viaggio verso le destinazioni turistiche campane avverrà tramite procedura selettiva aperta a tutti i comuni della regione Campania, mediante apposito avviso pubblico che recepirà le linee guida approvate con la di libera. L'obiettivo della regione è l'individuazione di itinerari turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici che mettono a sistema le peculiarità dei territori, dai luoghi d'arte alle bellezze paesaggistiche, dalle tradizioni e dai riti alle produzioni tipiche, sulla base di percorsi integrati e tematici di cui beneficerà tutta la filiera turistica regionale. Promuovendone le eccellenze, ha dichiarato l'assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo Felice Casucci. L'intento è di superare in chiave strategica la frammentazione degli interventi e la divisione dei territori, diffondendo un'immagine turistica unitaria della Campania, che fa di Procida, capitale della cultura 2022, un modello di turismo sostenibile di cui potrà beneficiare l'intera regione.